Un programma a tv degli embrioni congelati, una coppia che desidera avere figli a tutti i costi, compresi quelli economici. Con questi ingredienti va in scena l'ennesima SOP con un apparente lieto fine. Così una coppia di giovani, 29 anni lei e 36 lui, apprende dalla tv di un'associazione che conserva gli embrioni congelati che le coppie, che seguono un percorso di procreazione assistita, decidono di non utilizzare e di donare. Il termine dono ricorre spesso in questi racconti, anche se queste tecniche hanno costi altissimi. Ufficialmente l'associazione è senza scopo di lucro e non è chiaro chi ha pagato, a chi le cure necessarie. E i media si guardano bene da ricordarlo, facendo leva sull'emozione che genera la nascita di un bambino. Insomma, dopo una donazione nasce Emma nel 2017 e quest'anno Molly, da embrioni congelati da 24 e 27 anni. Dietro tutto ciò si nascondono però molti problemi. Primo fra tutti il fatto che Emma e Molly, oltre ad essere sorelle, perché sono state partorite dalla signora Gibson, condividono anche il patrimonio genetico, visto che sono nate da embrioni lasciati da una coppia nel 92, quando Tina Gibson, la loro madre, aveva appena due anni. Insomma, mamme e figlie sono biologicamente quasi coetanee. Oltre a questo, molti studi scientifici mostrano anche un rischio maggiore di ammalarsi di tumore o di sviluppare malattie invalidanti a cui vanno incontro i bimbi nati da fecondazione artificiale. Ad oggi comunque nei freezer dell'Associazione Americana giace circa un milione di embrioni, un patrimonio solo per ora virtuale.